Ciao, le testarde siamo noi, io sono Ella Liguori, io sono Maria con il cognome impronuncibile, io sono Giada Cecchi, al basso, io sono più trista. Indevinate cosa faccio io? Sono il flauto! Forse! Rock Targato Italia, ma quanto ti stiamo aspettando Rock Targato Italia? Da stai? Anzi, Rock Targato Italia, quanto ci stai aspettando? Siamo arrivati, no? Facciamo i miracoli sul palco? Sì. Trasformiamo anche il vino in acqua, no, l'acqua in vino, l'acqua fanno altre ben più lì, noi facciamo i carlari. Quindi cosa dobbiamo dire? Allora, possiamo dire solo le cose che come noi non ci sono altre. L'appoggio. Questa ho detto la più volte e lo ripeto sempre. Appoggiamo. Ciao, mi raccomando, votateci noi. Seguiteci, votateci. Con l'acqua, eh? Con l'acqua, con l'acqua, eh? Questa, questa è quella. Quella H lì, esattamente. E te! Ciao! 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 Ciao!